Dall'incontro che ho avuto questa mattina con il signor prefetto e con il questore, alla presenza mia e di altri esponenti del consiglio comunale, dell'amministrazione comunale, abbiamo avuto intanto rassicurazione da parte del signor prefetto che questi 30 migranti che si sono aggiunti ai 70 che già esistevano, che erano presenti all'interno del centro di accoglienza Villa Sicania, saranno messe in quarantena e non avranno contatti con gli altri 70 che già erano presenti qua. Quindi ci ha rassicurato da questo punto di vista, ci ha detto che si tratta di una situazione temporanea, che stanno cercando soluzioni alternative, non ultima quella della nave in rada che dovrà posizionarsi nei pressi di Lampedusa e comunque mi ha anche rassicurato sul fatto che una volta ultimato il periodo di quarantena e dei primi 70 migranti che si trovano presso il centro, questi saranno trasferiti altrove. È chiaro che la cittadinanza vive un momento di allarme, di preoccupazione perché il problema dell'emigrazione viene a inserirsi nel problema ancora più grave dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo un po' tutti. Devo dire che Siculiana ha ottemperato a comportamenti di buon senso, nel senso che ha rispettato tutte le prescrizioni imposte dalla normativa, quindi possiamo dire con fierezza che a Siculiana non c'è nessun caso di coronavirus.